Il progetto Abbracci andrà a creare degli spazi abbracci dedicati alle famiglie, agli adolescenti, ai nonni e anche ai bambini. Sarà un momento per creare un po' di collegamento con i nonni della propria famiglia ma anche con i nonni del territorio. I nonni leggeranno le fiabe, i nonni saranno con voi nella quotidianità. Potrete venire con la mamma, col papà e questa sarà un'occasione di incontro per tutti. Ci saranno laboratori di arte, di cultura, di musica e anche di video o anche di pittura. Il nostro progetto è innovativo perché punta a diminuire l'isolamento creando spazi di incontro. I nostri spazi si chiameranno spazi abbracci e questi spazi che diventeranno un luogo dove le persone potranno incontrarsi e diventare protagoniste attive degli interventi, dopo i tre anni resteranno direttamente alla comunità. Quindi abbiamo strutturato gli interventi in modo tale che l'intervento dei professionisti diminuirà nel tempo attraverso la formazione dei volontari e degli operatori, cosicché proseguirà il progetto nel tempo lasciando spazio e protagonismo alle persone del territorio, alla comunità che diventa attiva. Grazie